Prima di parlare, rifletti bene sulle parole da dire, come chi mette il sasso nella fionda e lo lancia solo quando ha preso bene la mira. Le parole della tua bocca sono come il sasso nella fionda. Se lo lanci, non potrai più recuperarlo. Se sbagli mira o è inopportuno, farà del male. Se lo lanci, non potrai più recuperarlo.